wu kong fai la subo ora vi mancherete papere durante la vacanza vi penserò sempre malezzi non ha il pene alcuni dicono di sì alcuni sostengono di sì in realtà però non abbiamo mai avuto prove perché non ne siamo sicuri abbiamo solamente il vago sospetto allora chi mi ha evocata? un demonio praticamente un demonio praticamente chi mi ha evocata? tanto dura la pausa fino al 31 incluso il primo settembre torniamo a regolare in live ah no ma io so che lezzi ha un cazzo enorme è così che sodomizza le persone che vengono bannate spawna in camera e le incula non mi ricordo più dove cazzo eravamo arrivati mi ricordo che avevamo ammenato il cagnone avevamo ammenato il cagnone avevamo ammenato il cagnone avevamo un paio di trasformazioni il problema è che non mi ricordo più i tasti da domani patatino da domani fino al 31 incluso comunque ve lo dico anche su instagram quindi andate su seguitemi anche su instagram se non lo fate così avete tutti i comunicoti lazy the penis of justice ig allora ho messo la maschera del cazzo ah vero così bevevo devo ricordarmi i tasti offriamo un pelo di cazzo per riposare un attimo ok io il tasto era per le magie questo qua ok marea rossa non mi ricordo ah marea rossa è la rotata per là così questo qui così l'attacco pesante ok ok questo gioco comunque ha una quantità di boss abbastanza impegnativi perché hanno già beccati 12 in 5 secondi mi scusi mi perdoni ripago tutto lo giuro chiedo scusa non volevo mi dispiace non volevo romperlo chiedo scusa questo non si rompe questo si rompe ci sono io in questo sto spaccando veramente la cazzo di cane dovrebbe essere un viaggio per ritrovare l'illuminazione per diventare spacco colo succalo ok sono proprio un vandalo veramente io tra l'altro continuo a raccogliere cose anche se non ho la più pallida idea che cazzo serve però mi spiegherà un attimo come funziona gli oggetti che raccoglano cosa servono eccetera eccetera decotto di sig medicamento contro il male polvere rinfrescante non so che cazzo voglia dire ma va bene qua c'è uno grosso qua c'è uno grosso come mi trasformo che non mi ricordo più oh 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 piano Rambo ben tornato tra le rapere armate abbiamo un punto usiamolo riaccendi le scintille allora questo cos'è che era io ragazzi senza offesa aumenterei la vita qua ho come un bisogno che come un bisogno che potrebbe essere utile crea l'armatura e come faccio ah posso aspetta crea l'armatura allora questo effetto consente di usare il fiasco durante lo scatto basta mi abbassa anche la difesa questo aumenta discretamente la velocità dello scatto quando scatto il secondo aumenta discretamente l'attacco questo è già più carino questo è carino scatto ok io farei a sto punto l'armatura non è male non è male e basta perché non so cosa serve gli altri voglio mettere questo qua piano 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 flash cordon ok fai un boss non dipende ma dipende dove hai il gioco salve lei il gioco che vengono alofte e non vengono. La scuola che il tuo non serve un po' di solito, ma il mio risultato solo per me. La mia sapere un modo per guidare la d'unica, per prendere i passi e per rendere loro liberi. La mia aiutare a te. disegnando un pene sulla fiasca, palesemente. C'era un momento in cui non avevo la maschera, e non so cosa vuol dire, sinceramente. Sotto la guida di un sabio maestro e predestinato ha affinato l'arte dell'assimilazione dello spirito. Il fiasco possiede straordinaria capacità divina e consentono di assorbire le volontà persistenti di tutto ciò che va incontro e la propria fine. Gli spiriti abbandonati. Cioè, praticamente divento scienziale. Continua con la verità di che cazzo ho appena sentito. Maresi! piano, iniziamo a massare. No! Ma che attacco è un attacco che inciampi? Mi ha fatto un attacco lazy. Un attacco che mi attacchi inciampando. No, che schifo. Cos'ho addosso? Mi ha avvelenato. Che è successo? Auguri, Nicola. Auguri. Buoni sedigianni, manatino. Happy birthday. Sono avvelenato! Mi scusi? Come mi si sta... No, 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 no. Eh, beh, tua madre. No, tua madre, tua madre. No, no. Che schifo, che schifo. Come si leva sta merda di doffa? Ok, è levato. La cattedrale è profanata. No, un altro di quegli schifi. No, un altro di quegli. Ah, mi ciuccio a quello. Io non ho idea di dove cazzo io sto andando comunque. Anche perché l'ambientazione della foresta, della giungla quel che è, non è che la lascia molto... Eh, ma non so dove siano i consumables. Vedo tanti stronzi scheletrici e la cosa mi inquieta parecchio. Scusi. No, però se siete un po' tanti per i miei costi. Scusi, non è per cartilerio, ma siete un po' tanti. Non è il momento. Boss. Ha delle tette in testa. Ma così? Ma scusami, ma sei un infame di merda. Ma è un infame. Ma mi ha attaccato all'infame di merda. Ma mi ha attaccato all'infame di merda. Ma vabbè, Rambo è però... Ma devo ammazzarli io, queste cose? Come l'impressione è che devo ammazzarli io, spesso? Come l'impressione è che devo ammazzarli io, spesso? Ma non è che io non ho più... No, no, ho il su un cazzo. No, no, eh, vabbè. Eh, sono morto perché non riesco a schivarsi, è tutto questo. Chifo. Che schifo era? Ah, è vero, potevo trasformarmi. Non mi ricordo quel tasto. Qual era il tasto per trasformarmi? Non mi ricordavano neanche più. Non mi ricordo qual è il tasto. Com'è che posso trasformarmi? Non mi ricordo più. Ah, ero due cerchi. La rasciamo adesso? Tanto la sappiamo, noi non ci limitiamo a rasciarla. Oh, Johnny, piano. Vai nell'acqua adesso. Non è che si potesse. No, non mi seguita, dai. Trovatemi un hobby. Oh, cielo. Quella è grossa. È so, scimella. Un attimo, scorta. Un attimo, rana. Oh, ma ci vuoi calmare? Chiamaci Raya. Ma cos'è sto attacco di merda? Oh, c'è sto attacco di merda. Ma dai, mi ha fatto il colpo di panza. Ma dai, mi ha fatto il colpo di panza. Mi ha fatto il colpo della panza. Ho preso Big Lee Gaal, Bo Lee Gaalang. Ah, posso evoccarla. E come l'evoco? Bo Lee Gaalang. Non posso trasformare la rana. No, non è vero. L2R2. Non posso trasformare la rana. Ma non qual è il tasto? Perché... Ah, no, L2 più R2. È scritto lì. Sono deficienti. Adesso andiamo a menare il tito e ci trasformiamo palesemente in rana. Non ho idea di come siano gli attacchi. È una mossa che dura poco, ma è forte. Adesso lì la proviamo. Non ho idea di come siano gli attacchi. L'avete fatto bene la virgola anche perché le trasformazioni piacerebbe prenderle tutte. C'è rie! Non lo fa. Perché non lo fa? Ah, perché forse non posso. Non forse perché c'è un tempo? Sì. 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 Vabbè sì, Rambo. bevi però sorella non bevi semplice semmi le presa guardino io l'ho visto io l'ho visto io l'ho visto baby 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 mi dà solo fastidio il quel cazzo mi dà solamente fastidio il cazzo di veleno dammi subito e me l'ha parlato buio mi manava sangue il sangue del toro ma dove vado di qua o di là ora devo andare di qua quindi vediamo dall'altra parte se c'è qualcosa vediamo se di qua vedo qualcosa di carino i have an ominous feel e tanto sono qua a menare tutti lo stesso quindi voglio dire non è che adesso vediamo un po' come la rana allora crea armatura no non penso ci sia nulla di nuovo invece coltiva spiriti ah ne ho due lo scatarra lo scatarratore assume la forma di bo-li-ga-lang e usa la lingua per sparare nei miei non è diventato morbida anche la lingua per fendere danni ingenti evo che i serpenti lo sputo infingono riduce il costo del quotiente intellettivo dell'abilità proviamo proviamo la rana proviamo la rana dai ah ma fa solo quello e lui invece no facciamo la rana ok facciamo la rana e la teniamo l'ho equipaggiata spero di sì scintille ma allora rende ogni schivata iniziale più rapida e flessibile ma ci sono parecchie che mi piacciono questo l'ho già fatto aumentare il vigore e facciamo arti marziali oppure facciamo rende ogni schivata iniziale più rapida possibile e ragazzi adesso poi non lo so perché bisogna imparare usiamo ora posso diventare rana io sono arrivato al terzo capitolo di questo gioco e non hai idea di quanti cavolo di bosso ci sono ma in realtà una mezza idea me la sono fatta se le critiche delle temministe non mi avevano convinto del tutto il numero di bossa è stata la ciliegina sulla torta a farmelo amare ma guarda tutto questo per concludere se per caso dovresti iniziare a lasciarti di continuo mi consiglio di aprire il gioco da skill con la seconda modalità di da Dio invece di quella normale va bene va bene va bene va bene va bene grazie va bene va bene va bene è un mercante scusi io raccolgo intanto potenzamento fiasco non ho abbastanza materiale per potenziarlo potenziamento bevanda non ho abbastanza materiale prepara vino di cocco ogni sorso di piste il 33% carino oppure non ho abbastanza cosa vendi recupero l'entamento non bisogna andare solo per un istante aver usato il fiasco non mi convince niente di tutta sta roba preparo questo ma non mi convince niente di tutta sta roba no l'ho fatto? lì vicino un albero a quello che ti serve adesso ci guardo percorso lo spirito della roccia vabbè ritorno al falò attiva la magia adesso l'attiveremo adesso il prossimo l'attivo mi sembra che è bello però questo gioco è molto carino ah che cosa? vicino al falò c'è la roba per potenziare il fiasco fammi guardare allora impostiamo anche le maglie non l'ho vista c'è un boss tanto per cambiare perché fino adesso non l'avevamo trovato intanto impostiamo le magie ah come fa preparare il vino di cazzo allora imposta magie le impostate le magie ne ho due ne ho solo due non ho altre magie da impostare clicca ne ho solo due rampicante fragrante di luoglie questo mi serve per potenziare il fiasco ipotizzo torniamo dal tizio dall'amico frizz non c'è equipaggiata la rana potenziamo il fiasco mercante ok ok andiamo da sto cazzo di boss tanto è tutto un boss non è che non è che non è che non è che prego giopa grazie per il 34 paratino grazie mille per i sap grazie mille per i sap ma io non capisco un cazzo di quello che hai detto ogni volta odino rivelami qual è il tuo fine e mi vedo grazie mille per i sap 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 Vabbè dai ma però Quest'uomo è in hyper armor permanente? Si fa 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 Come fai a fargli così tanto danno? Perché ho il cazzo molto grosso e di conseguenza quello che vedi in mano non è il mio bastone, è il mio cazzo E che è estraibile ed è staccabile Solo che siccome l'acqua mi eccita divenne molto più duro del normale Quindi aumentando di densità aumenta anche la potenza del cazzo Ma ragazzi sapete che non sono sicuro perché potrei sbagliarmi eh Potrei sbagliarmi Ma credo che tutto possa da due fasi Ma non sono sicuro Non so sicuro che in mente sta fuori Non so sicuro che in mente sta fuori Bene Mi prende sempre Mi prende sempre Mi prende sempre Dai lei per armor e mi vedi mi parte! Dio tutana! Cos'è sto danno che mi hai fatto? Vediamola a fase 2, vuoi morire? Dio noia! Sono morto però! Sono morto! Eh ma sono morto! Eh ma sono morto! Eh però sono morto quindi... No sono vivo! Come io sia vivo? Ero morto! Perché sono tornato in vita? Sono immortale! Sono Gesù! Ma ero morto! Perché sono tornato in vita? Ero morto! Io non conosco i tuoi attacchi! Ero bello! Eh fagli vedere tua serpente! Sperta che ho un problema! Eh che spiego! Eh che fai sconca! Eh fagli vedere tua serpente! Sperta che viene un problema io! Non posso dare vita di nuovo, chiedo per un amico, ne chiedo. È da PC o no? È da PC? Però sono... devo riuscire... Metti la testa di Thanos. Chi? Eh, usa di più gli attacchi caricati. Ci mettono due anni a partire gli attacchi caricati. Ah no, io c'è... Eh ma oh, ma si va! Solleva si però! Oh, che da mio, sono un problema! Ehi! Non sto ascoltando, è inutile che mi parli! Eh ma non sto ascoltando, è inutile che mi parli adesso! Cosa vuol dire?! Prova a tornare... Now you shall face... what I truly... ma se può poter essere parati a farci un piasko ma da fine è che è quello che è stato Cazzo, non stavo guardando. Ho capito, è che non mi consente molto, almeno le magie, quindi... No! Scusi! 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 Pensavo non si stunnasse, non rimanesse lì a fare il suca minchia. Si fa, si si fa, però... un attimo. Quest'uomo vive in iper armor, il che non è semplicissimo. Ovviamente le trasformazioni potrei provare anche a tenerle per dopo. Ma L2 ho degli oggetti che non so cosa... L2 ho degli oggetti che non so cosa sono. Perfetto! Perfetto! Lo scopo! Lo scopo! Lo scopo! You, unruppi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, lo so, no, lo volevo fare in seconda fase. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, perché ho saltato come un coglione? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Terza fase di disinstallazione. Grazie a tutti. 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 Come ha fatto equipaggiare lo spirito della rana? Da qua c'è scritto equipaggiare lo spirito Dall'incensario Io ho preso un altro pezzo d'armatura No, spirito delle rocce Era quello che mi serviva per creare Era quello che mi serviva per creare Il bastone Serpenthausen Era quello Molla il mio bastone Proviamolo, vai, facciamo il bastone Serpenthausen Forgia armi Elenco armi, vai col bastone Poi tra l'altro effetto unico Mentre sicuramente l'attacco dei colpi finali E combinazione di attacco del giro Ok, perfetto Equipaggiato Ottimo Mami il cazzo serpentino Stavo simulando Giorgio degli aristocassi Ah, che sfaso, merda Stato mi sta facendo soffrire Abbiamo il cazzo simulando Ma per davvero Abbiamo il cazzo simulando Mi chiamerò la scimmia La scimmia La chiamerò l'orius batacchi Ciao, Pippo Ciao, Pippo Ma andiamo Oh, Cristo Lei non è aggressibile, vero? È un vecchio ginghi Oh, grazie a me, Tabà Oh, oh, oh Finalmente, then The three bells sang The three bells Disciples come I hear travelers approaching my temple Carrying new treasures Lei ce l'ha già con me? I cannot see you But I recognize your odor Eh, non mi lavo spesso, scusi You cannot be you You are back Mi è confuso per Bukog It must be you who took that Kassaya Scusi, scusi, lei è? No, scusi, allora Io non ho capito Lei chi è? Allora, io me l'ho trasformato in rana Mi ha dato una trambata Mi ha fatto esplodere Ho capito, mamma È troppo, è troppo, è troppo, è troppo più alto Beh, eh, sì, no Lei si deve calmare No, eh, va bene No, eh, va bene Sì, è va bene Sì, la skyda Ma io voglio fare la rana Ma ad una botta È disintegrata Oh, oh Ragazzi, ma lei va troppo a vita Sto coso Ma bisogna schivare tutto Le va troppo a vita Sto cazzo Che cazzo C'è di ritorni che piccolo Ma mi fa vedere Ah, oh, è vero Ah, grazie al cielo Un pochino più severo Mi calmi Dio Mi spari i kamehameha Dio, mio Ma sto cesso Fa un danno Del dio Mannaro Basta solamente Schivare gli attacchi Per fare a botte Con gli zombie Sì, adesso Non uso la fiasca Allora, eh Intanto proviamo E' un danno Se questo è un mappa E' un attacco OI, OI Ma cos'è Il danno Cos'è Il danno Eh, morizzo Mi sono tutti Saterati Indemoniati Saterati No, tiralo 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 Non capisco Non so cosa succede Sicura Che cazzo devo fare? Ah, perché sono gli zombie Che ti ritardano Di controllo Ma è una parola Cioè Non riesco a Bloccarli Da tutte le parti Ma è una parola Non so cosa succede non riesco a menarli tutti quattro sicuramente non si può sfumare non riesco a venire hai io non riesco a venire non riesco a venire non riesco a venire è un acchio è un acchio però se non lo permette mai di saltare oh no, ha ripreso l'assalto dei cadavri ho finito c***a 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 sto c***o madonna santa sto cesso la run consiglio di studiare con quello che hai già colperato all'inizio eh infatti ho più che altro ragazzi mi fermo perché ho un mal di testa che mi sta facendo venire un'emicrania ho una leggerissima emicrania che mi sta veramente scassando il cervello allora papere noi ci vediamo il primo settembre io vi auguro una buona fine settimana di agosto mi mancherete tanto vi mando un bacino e ci vediamo tra una settimana papere grazie mille ovviamente di follow cene sabbio divertimento le risate buona settimana ci vediamo il primo di settembre non de papere che 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 perché vediamo ci vediamo